Buona giornata, domenica 22 maggio, apriamo l'edizione del TV giornale di Telestense, come sempre diverse le notizie, tra poco parleremo di notizie legate alla Covid, ma ci occuperemo anche e ancora del terremoto di dieci anni fa, parleremo di Paglio, oggi appunto gli antichi giochi delle bandiere estensi in centro a Ferrara e poi della finale di Coppa Italia femminile alla Paolo Mazza. Però come dicevo, apriamo parlando di Covid non tanto con i dati che vi daremo tra poco, ma per parlare delle forme di Long Covid che continuano a perseguitare anche dopo la guarigione tra il 5 e il 10% dei pazienti emiliano-romagnoli con i servizi dedicati per prestare la loro assistenza, che però non sembrano essere sufficienti. A fotografare lo stato di affanno della rete ospedaliera regionale nel post-emergenza pandemica è un'indagine di FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, durante il suo congresso in corso a Roma. Carenza di personale, di posti letto e difficoltà organizzative, i principali problemi evidenziati anche nella nostra regione. I pazienti che non si liberano dei postumi del Covid-19 dopo essersi negativizzati al SARS-CoV-2 sono tra il 5 e il 10% in Emilia-Romagna e in media quasi un paziente su 10 ne è afflitto e i percorsi che sono stati creati per loro assistenza non sono per FADOI sufficienti. Il sintomo più diffuso resta quello della stanchezza cronica e l'età media dei casi è tra i 30 e i 60 anni. Si registra tra l'altro anche una lieve recrudescenza delle malattie infettive rispetto al periodo prepandemico. Questa appunto è una notizia diramata questa mattina ma intanto vediamo l'ultimo bollettino relativo alla giornata di ieri. 167 nuovi positivi nel ferrerese in cui da quanto emerso dall'ultimo bollettino Covid non si registra nessun decesso. L'aggiornamento in Emilia-Romagna registra circa 3.400 nuovi guariti e poco meno di 2.000 nuovi positivi. Quattro i decessi a livello regionale, lo ricordiamo nessuno nel ferrerese. In regione i ricoveri nei reparti ordinari Covid sono in calo mentre è stabile l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. E intanto legandoci al Covid parliamo anche di economia. Dopo questi due anni difficili c'è Ferrara Fiere che rilancia. Sentiamo come. Oltre al nostro calendario normale si svolgono tante attività di tipo convegnistico. Abbiamo un'attività molto intensa con l'università che oltre a svolgere attività ordinaria svolge anche i loro concorsi, esami e tutte le attività appunto di Unife. Nel frattempo noi continuiamo con il nostro programma, il settantesimo congresso nazionale dei Lions, un evento che impegnerà tutto il fine settimana. Dopodiché smantelleremo i Lions e cominceremo l'allestimento del Salone del Restauro. Il Salone Internazionale del Restauro è uno degli eventi cardine della fiera. Quest'anno torna a Ferrara dopo aver fatto il 2021 a Bari in tour e quindi ritorna a casa. Su questo stiamo investendo moltissimo anche perché il Salone Internazionale del Restauro rappresenta un punto di riferimento per questo specifico settore, un punto di riferimento a livello europeo, se non addirittura mondiale. Dopo il Salone del Restauro avremo il Carer Day, quindi questo altro importantissimo evento in collaborazione con l'Università di Ferrara ed è un evento proprio finalizzato a indirittare gli studenti verso il mondo del lavoro. Questo è uno degli obiettivi che la fiera deve avere. La fiera è una grande vetrina per tutte le eccellenze del territorio ma deve anche rappresentare un punto di incontro e di confronto su qualsiasi tematica. Bene, l'Università opera per conto dei propri studenti proprio con il Carer Day. Noi operiamo anche su tanti altri temi con tutti gli eventi che avremo dall'inizio di settembre in poi quando si riprenderà appunto la programmazione ordinaria della fiera. È una normalità che non è un ritorno al passato perché la normalità che avremo da adesso in poi è una nuova normalità. Nel frattempo sono cambiate le modalità di fare fiera, sono cambiate le modalità di fare qualsiasi tipo di evento. Il periodo della pandemia ci ha messo in grande difficoltà ma ci ha anche dato la possibilità di rivedere il modo di lavorare rendendo alcune pratiche più efficienti, rivedendo gli spazi e il modo di fruizione di tali spazi da parte del pubblico. Il distanziamento, il contingentamento non li avremo più ma sicuramente avremo una cosa molto importante che deriva da queste abitudini un ordine maggiore, un'efficacia, un'efficienza maggiore nella fruizione appunto degli eventi fieristici. Questo dunque per quanto concerne la fiera ma intanto uno dei settori fondamentali del nostro territorio è l'edilizia e le costruzioni e c'è un allarme lanciato da CNA che riguarda il super bonus. Le commesse rischiano di saltare e c'è blocco dei cantieri. Si rischia dunque una nuova crisi delle costruzioni e l'associazione fa un appello alle banche locali. Sentiamo. Oggi le nostre aziende stanno vivendo un paradosso importante ovvero una programmazione che non eravamo abituati ad avere quindi per soddisfare quelle che le normative del super bonus ovviamente ci hanno imposto a livello di tempistiche abbiamo programmazioni fortunatamente che vanno ben oltre l'anno e mezzo però purtroppo il paradosso è che oggi con l'incaglio a livello di crediti quindi cessioni del credito da parte delle imprese o dei privati alle banche sta mettendo nelle condizioni tutto il comparto di avere uno stop brusco che può provocare che questo tipo di programmazione venga meno nel giro di qualche settimana. Si sono bloccate le commesse. Alcune commesse sono proprio saltate perché ovviamente l'incertezza che gli istituti di credito oggi hanno generato sia al privato che all'impresa hanno messo nelle condizioni entrambe le figure di non avere una certezza ovviamente legata all'accessione del credito di imposta generato dai lavori e quindi commesse che erano state calendarizzate ancora 6, 7, 8 mesi fa sono dalla sera alla mattina saltate. Questo non ce lo possiamo permettere assolutamente. Le banche locali chiediamo che mettano in atto quanto prima, quanto prevede il DL aiuti, tutto questo è fattibile se e solo se gli istituti di credito ovviamente rimettono in atto la possibilità di acquisizione dei crediti di imposta. È chiaro che è un processo particolarmente complicato. Abbiamo capito quali sono ovviamente le problematiche bancarie perché le stesse sono state chiarite in modo ampio ma abbiamo anche capito e sappiamo che a livello politico e soprattutto a livello legislativo questo incaglio è stato risolto e quindi aspettiamo un feedback immediato soprattutto dalle banche del territorio e quindi riteniamo che oggi a fronte di una possibilità come è il 110% non ci debba essere assolutamente nessun incaglio ma anzi ci debba essere campo libero in modo che le aziende e gli operatori economici tutti lavorino senza nessun tipo di problematica. Intanto parlando di ricostruzioni, un tema ancora sicuramente d'attualità è l'anniversario dei dieci anni del terremoto che si è tenuto due giorni fa tante le iniziative che si sono svolte tra cui un convegno all'università chiamato Terremoto delle Miglia dieci anni dopo. Sono stati diversi gli interlocutori che hanno preso parte tra cui il professor Marco Bresadola che ha fatto il punto della situazione nell'intervista che sentiamo. Gli obiettivi che ci siamo posti sono stati intanto quello appunto di riflettere come è stato detto insomma ripetutamente in tempo di pace quindi insomma in un momento in cui non siamo in emergenza però sulle questioni cruciali che sono quelle appunto di come si fa a fare prevenzione di come si fa a diffondere una cultura della prevenzione e di come si fa a comunicare questa cultura. Noi in fondo come laboratorio del design of science dell'Università di Ferrara e come master in giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza abbiamo un pochino questo obiettivo e questo obiettivo tra l'altro lo perseguiamo anche con i nostri studenti erano qui presenti direi quasi tutti gli studenti dell'anno in corso del master e è proprio con loro che vogliamo riflettere su questi temi. Il messaggio secondo me è la necessità di un maggiore coordinamento tra tutti gli attori coinvolti quindi che erano tutti rappresentati poi qui quindi le istituzioni, gli scienziati, i media è necessario un coordinamento perché soltanto attraverso come dire una sinergia che è un'altra parola che è stata usata anche oggi attraverso la sinergia tra tutti questi attori è possibile appunto costruire una vera cultura della prevenzione. E tra i tanti protagonisti di questo convegno c'era anche il professor Riccardo Caputo geologo del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra di Unife che ha sottolineato come in questi dieci anni la ricerca abbia contribuito a creare una maggiore conoscenza delle caratteristiche geologiche del territorio mentre resta ancora abbastanza indecifrabile come confermato dalle indagini del sociologo Rubin. Sentiamo. Conosciamo meglio le strutture principali perché le abbiamo studiate le abbiamo approfondite quindi le conosciamo un po' meglio questo ci permette di valutare meglio la pericolosità sismica a grande scala ma nel frattempo sono stati fatti anche molti studi quasi tutto il territorio praticamente del Ferrarese molti studi diciamo di microzonazione sismica che permette di valutare alla scala comunale alla scala urbana fondamentalmente le etereogenità che ci sono nel terreno con seppolevolezza in più c'è sono convinto c'è ancora molto da fare anche questo è vero si spera in occasioni future di ripetere eventi giorni del ricordo del terremoto piuttosto che esercitazioni, simulazioni e quant'altro e trasmissioni anche un segnale diciamo a Telestense che è una televisione importante nel territorio quindi riuscire a organizzare anche una volta all'anno un evento solo di terremoto sarebbe molto importante e si è parlato anche di cultura della prevenzione tra i vari temi affrontati durante questo convegno ricordo tenutosi nel pomeriggio del 20 maggio ha partecipato tra gli altri in rappresentanza del comune di Ferrara l'assessore Andrea Maggi lo sentiamo ma devo dire questo convegno di oggi è sicuramente una metafora anche di quello che si è detto oggi abbiamo sentito la voce dei comunicatori, dei giornalisti la voce di un amministratore di un ente locale la voce di un professionista di uno scienziato in scienze della terra che si sono messi insieme a distanza di 10 anni per vedere sia quello che è stato fatto dal punto di vista della ricostruzione sia pubblica che privata ma anche dal punto di vista di come approcciarsi in tempo di pace oggi fortunatamente siamo in un tempo di pace le emergenze ci sono sempre ma sono di un altro tipo ma come attressarsi in tempo di pace di fronte a un evento come un terremoto ed è giusto discuterne e lavorare in tempo di pace a bocce ferme con tempo a disposizione perché una cosa che è venuta fuori oggi è che tutta la legislazione nazionale purtroppo è sempre stata come spesso avviene in Italia una legislazione di emergenza cioè all'indomani di un terremoto dal 1908 il terremoto di Messina poi a seguire tutti gli altri si sono susseguiti dei provvedimenti legislativi ma è chiaro che sono provvedimenti tampone d'urgenza che invece la situazione per la quale noi avremmo bisogno di una legislazione e di una operatività in tempo di pace che è quella che uspichiamo tutti e cambiamo argomento Paglio protagonista anche questo weekend a Ferrara in corso ci sono gli antichi giochi delle bandiere stensi si è cominciato ieri si continua oggi pomeriggio vediamo dal servizio i dettagli il Paglio è tornato a colorare il centro della città dopo il magnifico corteo che ha gremito di persone le vie e le piazze di Ferrara sabato e domenica si stanno tenendo nella centralissima piazza municipale gli antichi giochi delle bandiere stensi sabato pomeriggio e sabato sera e domenica dalle ore 16 i giochi giovanili delle bandiere gli antichi giochi delle bandiere sono uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione che ha segnato il ritorno dei colori del Paglio dopo gli anni difficili della pandemia da tre anni il centro non ospitava i giochi due anni causa restrizioni da covid nel 2019 le gare si tennero al palazzetto dello sport causa maltempo gli sbandieratori stanno difendendo i colori delle otto contrade accompagnati dai musici domenica e nel tardo pomeriggio sono previste le premiazioni poi giovedì ci saranno le visite ai cavalli e venerdì e sabato le prove obbligatorie dei cavalli ai canapi sabato sera poi il prossimo ci saranno le cene propiziatorie e poi domenica 29 maggio si terrà il momento più atteso le gare del Paglio in piazza Riostea e torneremo su questa notizia anche nelle prossime edizioni adesso però ci occupiamo di agricoltura importante appuntamento per domani a Ripa Persico quando al mattino in un'azienda del territorio verrà inaugurato un nuovo impianto all'avanguardia per la produzione di foraggi saranno presenti anche le autorità ma sentiamo direttamente dal presidente della società L'Erba del Persico ovvero Paolo Bruni di che appuntamento si tratta estratto dall'ultima puntata di Con i piedi per terra oggi 23 maggio L'Erba del Persico un appuntamento per inaugurare e per immaginiamo insomma dare visibilità ad uno dei temi fondamentali per quanto riguarda l'agricoltura e l'allevamento ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Sì, semplicemente il 23 maggio in Ripa Persico dove c'è la sede dell'Erba del Persico che mi onoro di presiedere si tiene l'inaugurazione di un nuovo e innovativo impianto per la disidratazione dell'erba medica qui c'è dentro tutto il concetto delle cosiddette proteine vegetali soprattutto in questi tempi che l'industria mangimistica ha bisogno di integrare i propri mangimi con apporto proteico la proteina vegetale che proviene dall'erba medica è quantomeno di ideale per un buon mangime allora abbiamo messo a punto questo nuovo impianto costruito in questi ultimi mesi e che sarà inaugurato lunedì 23 maggio e continuerà poi dal giorno successivo 220 quintali a ora appunto di medica erba medica disidratata quindi quella funzione che normalmente in modo naturale viene fatta al sole falciando l'erba e lasciandola asciugare col sole viene in questa metodologia fatta con un criterio diciamo così di industriale che mantiene il prodotto sempre uguale e che lo si può vendere per campione perché ogni balla è uguale a quell'altra e adesso vi raccontiamo una storia a lieto fine protagonista una tartaruga spiaggiata a Lido di Volano sembrava morta ma grazie alla segnalazione di due turiste e all'intervento dei soccorsi fra qualche tempo potrà tornare nel suo mare vediamo il servizio Arianna del Cormorano questo è il nome dato alla tartaruga salvata nella mattinata di giovedì 19 maggio notata al bagno Cormorano a Lido Volano da due turiste che passeggiavano lungo il litorale pensavano fosse morta ma quando ha mosso le pinne è stata una grande gioia per loro riuscire a salvare l'animale immediatamente sul posto si sono presentati i volontari di Delta Rescue l'EMPA di Lago Santo il circolo nautico volano e il corpo vigili giurati di Goro il rettile un esemplare di 65 centimetri per 33 chili con un'età tra i 20 e i 25 anni sembrava in condizioni critiche a causa dell'affannoso annaspare sulla sabbia ma grazie all'intervento della veterinaria Giulia Bondesan di Goro e il successivo trasporto alla fondazione Cetacea di Riccione tutto si è concluso per il meglio l'animale ora riceverà ulteriori cure prima della liberazione vi parliamo adesso invece di una festa finale del concorso con le scuole Campagna Amica iniziativa tenutasi in un'attività a Caprile nel Codigo Rese vediamo dopo due anni di sosta forzata a causa pandemia donne imprese a Ferrara insieme a Coldiretti e Campagna Amica hanno potuto festeggiare venerdì 20 maggio la festa finale del concorso con le scuole Campagna Amica concluso il percorso di educazione svolto nel corso dell'anno sui temi dell'educazione alimentare e della sostenibilità ambientale che ha visto la partecipazione sia in presenza sia a distanza di circa 400 ragazzi di diverse scuole della provincia estense da Boghiera a Cento da Ponte Langorino a Bosco Mesola fino a Dogato l'attività formativa si è svolta su più versanti dall'attività nell'orto ad interventi in classe di produttori agricoli la responsabile provinciale di Donna Impresa Ferrara Amonia Dallalibera ha sottolineato positivamente il ritorno alle attività con le scuole attraverso le quali alle famiglie possono arrivare i messaggi di un modello di sviluppo agricolo ed economico rivolto alla sostenibilità a partire dalla conoscenza di quello che ci circonda e da dove arriva il cibo in particolare a chilometro zero e nell'ambito di una corretta alimentazione concetti ripresi dal presidente provinciale di Coldiretti Floriano Tassinari che ha evidenziato l'interesse ma anche il piacere e l'orgoglio dell'organizzazione nel potersi mettere così in relazione con i più giovani contribuendo alla loro formazione e conoscenza su questioni che toccano tutti quanti la classifica finale delle classi che hanno partecipato al concorso 2022 ha visto premiata la classe prima A di Dogato ed ex equo la quarta e quinta A di Ponte Langorino prima di chiudere vi ricordo l'importante appuntamento sportivo di oggi pomeriggio quando al Paolo Mazza si giocherà la finale di Coppa Italia di calcio femminile tra Juventus e Roma si sfideranno dunque per il trofeo e la città estense si conferma ancora una meta importante a livello italiano per il calcio tutto questo appunto dalle 14.15 oggi al Paolo Mazza vi ricordo invece la prossima edizione del TV giornale questa sera come sempre alle 19.30 per altre notizie e aggiornamenti telestense.it e i suoi canali social grazie dunque per averci seguito e a tutti buona domenica e buon proseguimento di giornata